E' da tanto che non vado a Iliost. Non mi manca certo il fumo, ma è un buon posto. Ehi, hai tempo per passare da me? Ehi, vieni da me ogni tanto, ok? I successi dell'enclave vanno condivisi tra tutti, no? Tutti quelli che vanno là fuori a fare il proprio dovere. E' di questo che si tratta. Non mi fido di questi nuovi specialisti. Perché no? Che tempismo! Abbiamo appena ricevuto delle fantastiche novità. Abbiamo appena ricevuto delle fantastiche novità. Abbiamo appena ricevuto delle fantastiche novità. Abbiamo appena ricevuto delle aspetti che comunque abbiano ricevuto delle fantastiche novità. Abbiamo appena ricevuto delle Protagione riferi secondo i confronti delle nostre promuette. Abbiamo appena ricevuto delle automobili. Ciao ecco! Grazie. 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 Adesso viene il divertimento. È ora di farsi notare. Grazie. 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 Voglio che questo strale funzioni perfettamente. Grazie. 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 Ho un altro lavoro da assegnarti. Sono lusingato, ma io ancora non so chi è lei. Ci sono abituata. Lavoro per i Corbus. Ah, una spia. Il mio lavoro è tenere sotto controllo eventuali minacce per Fortarsis. Una mia agente si è infiltrata tra i funzionari, un gruppo di contrabbandieri. Il suo compito è fare in modo che oggetti troppo pericolosi non finiscano nelle mani dei compratori sbagliati. Tuttavia, nel suo ultimo rapporto, ha menzionato un'incursione di combattenti stranieri nella zona. Chi sono? Come ho detto in precedenza, io scommetterei sul dominio. Significa che i guai busseranno presto alla nostra porta. Grossi guai, se la sua ipotesi si rivelerà fondata. Ho l'impressione che i guai siano la tua idea di divertimento. Incontrerai qui. Scopri di quali altre informazioni al corrente e regolati di conseguenza. Porteremo a termine l'incarico. E' l'abbiamo cononentori. Grazie a tutti. 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 Ma cosa possiamo fare, Wright? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questi test attirano gli animali. Non ho mai capito il perché. Assicurati che gli arcanisti stiano bene. Hai capito? Ricevuto. Terrò gli occhi aperti. Vieni, come un'altra, come un'altra, come un'altra, come un'altra. Vieni, come un'altra, come un'altra, come un'altra. Forse, come un'altra, 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 come un'altra. E' andato tutto bene, Yarrow. Bene, raggiungi il prossimo gruppo. Io mi assicurerò che questi organismi tornino indietro, sani e salvi. Qui, specialista Nard. Il primo gruppo ha finito. Nessun animale rabbioso. Che fortuna. Forse. Strano. Mi dirigo alla prossima posizione. Ho trovato il secondo sito. Vedo arcanisti. Già, ok. Cerchiamo la presenza di tracce energetiche nell'area. La sua volta scontata. La sua volta scontata. Attenzione, c'è un grosso metamorfico Non tentare di sfondare lo scudo, aggiralo Tutto chiaro Si vedono arcanisti qui, dove saranno? Nessun canale Bene, devono averli presi metamorfici Ma perché catturare degli arcanisti? Forse perché sanno molto delle cose dei carinatori Conoscenze preziose per i metamorfici Possiamo rintracciarli? Si, vai! I metamorfici rubano tutto quello che possono Per questo cerco la fraccia energetica e gli strumenti arcanisti Continuiamo a ricevere il segnale? Si, non è lontano Un accampamento Visto? Si, ci sarà da combattere Guarda quanti sono Non mi piace Nemmeno a me Una torretta ci voleva Guarda quanti sono Si, ho notato Una munizione in quantità da queste parti Occupatene Arcanisti ritrovati I metamorfici hanno portato addirittura una gabbia Una gabbia Bene, molto bene Si, ottimo lavoro Sento, Wright Da un po' Troppi metamorfici pericolosi nell'area Una brutta faccenda Sento, Wright Sento, Wright Quello è Sì, è lui Che cosa? Chi? Il grosso metamorfico Fauci di ferraglia Una piaga Lavora con gente malvagia Farò del mio meglio Sistemato Niente più fauci di ferraglia Prendi questo Fauci di ferraglia Occupiamoci di quegli arcanisti Ecco fatto Siete liberi Non potrò mai ringraziarti abbastanza Se mi avete arrivato tu non avevo idea di che cosa sarebbe potuto accadere Gli arcanisti sono in salvo Solo qualche graffio Avvisa le sentinelle di venirli a prendere Già fatto Bene Qui non c'è altro da fare Senti la specialista Wright Ricevuto Wright Vedi metamorfici nella tua zona? Specialista Wright Tu Vai laggiù Hai sentito? Forte e chiaro Grazie a tutti Ho localizzato l'accampamento È un caos E non c'è traccia di Wright Né degli arcanisti Soltanto metamorfici Moredizione Dove sei? Wright Soltanto metamorfici In metamorfici Non si sono mai avvicinate così tanto a Fort Tarsis Non scherzano di certo Non scherzano di Già, non c'è traccia degli Arcalisti o di Wright. È nostra linea, trovali! Sono numerosi cadaveri di metamorfici, lontano dall'accampamento. Raid! E sentite? Sembra un rapport? Raid! Grazie! Raid! Ria trovati! Un po' ammaccati, ma vivi. Raid si è difesa bene. Se la cavità. Si puoi scomperci. Bene, molto bene. Le sentinelle sono già in cammino. Bene, ce l'hai fatta. Mi sono venuti i crampi al dito. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.